Benvenuti alla ottava lezione del nostro corso di formazione aeropolitica 2020-2021, in fase con le date. Arriviamo quindi alla ottava su dodici in un pannello di lezioni che in questa fase, nella seconda fase del corso, vede un po' un rimando tra la dimensione umana e quella più generale. Quindi se due sabati fa abbiamo parlato di nuove esperienze economiche applicate che possono cambiare il mondo, oggi vediamo invece in questa lezione pre-pasquale un altro dato, cioè grazie all'aiuto di Salvatore Nardoli, che presenterò per chi non dovesse conoscerlo, diamo uno sguardo sulla dimensione del dolore, quanto mai opportuno non solo per la fase storica e anche civile, visto la vicinanza della Pasqua, ma perché tra i temi sicuramente più dibattuti negli ultimi anni c'è stato quello per il quale la nostra società moderna, ora un po' meno probabilmente, è spesso deviata da un'attenzione eccessiva al piacere. In questa questione, in questa dicotomia tra dolore e piacere, tra felicità e sofferenza, andiamo un po' dentro al campo di lavoro più tipico di Salvatore Nardoli. Salvatore Nardoli è filosofo, ha insegnato logica, filosofia della politica, ora ha insegnato filosofia teoretica. Nel suo campo di lavoro si è occupato molto della questione del dolore, ha scritto numerosi libri, insomma adesso è anche impossibile definirli tutti, ma veramente è una trattazione ad ampio raggio e molto approfondita. Vi consiglio di approfondire anche gli altri testi con una piccola ricerca. In questo particolare noi vediamo come per l'appunto la condizione del dolore sia una condizione dell'uomo in generale, questo è innegabile, e però come il dolore possa avere un ruolo anche di cambiamento, sia nelle nostre vite che anche nei confronti delle vite altrui, quindi una piccola forza di cambiamento del mondo. Del resto, abbiamo detto che questa è una lezione prepasquale, che questo libro si incasella bene, perché attraverso l'esperienza concreta della passione di Cristo, noi vediamo come il dolore e la sofferenza incarnate in un uomo, un uomo che era anche Dio, per i credenti, ha cambiato il mondo. Senza indugiare troppo su questo, noi ci addentriamo dentro questa seconda parte del corso che vede tutto un richiamo tra dimensione umana, individuale e ambiente mondo, con un accenno breve anche sull'etica. Di etica parleremo nelle prossime due lezioni, quella con Franco Bernabè, quella con Antonietta. Insomma, le nostre lezioni cerchiamo di incasellarle dentro, o meglio di incardinarle in una sequenza facilmente suggestiva, che si può trascinare da una all'altra, secondo un filologico. Questa lezione è introdotta da Roberto Deodato, storico componente del nostro metafo scientifico, professore ordinario di estetica, professore alla cattolica, e anche a Lugano, nella facoltà di teologia di Lugano. Quindi, ricordandovi le regole per gli interventi, tre in sequenza e poi andare così, lascio ora la parola a Roberto Deodato, che ci introdurrà al libro di oggi, L'uomo dei dolori. Bene, grazie Luca. Mi sentite tutto abbastanza... Mi vedete e mi sentite bene? Posso avere un feedback? Sì, perfetto. Allora, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sarò sintetico, ma devo dire che ho presentato durante questi anni del Circolo d'Ossetti diversi libri di Salvatore Matoli, al quale mi unisce un sentimento non solo di stima, ma anche di amicizia. e l'ho sempre fatto volentieri. Con questo libro la mia introduzione sarà, come dire, l'ho trovato in qualche modo più semplice e più difficile da introdurre, perché è un piccolo libro che è già una sintesi estremamente sintetico. Cioè, ogni capitoletto del libro mette in luce in modo, sono sei capitoletti, mette in luce in modo estremamente chiaro un concetto, lo sviluppa, e ciascun capitoletto mette in luce una questione cruciale, determinante. Cioè, mi sembra che Natoli abbia fatto proprio un potente sforzo di sintesi di alcune questioni che lui ha sempre affrontato nel suo percorso, importante percorso di ricerca, ma che qui fa, per dire così, precipitare, precipitare intorno a un punto cruciale. E il punto cruciale è appunto la questione del rapporto tra uomo e Dio attraverso Cristo nel dolore. In questi capitoletti compare spesso un interlocutore, compare sovente un interlocutore, e questo interlocutore è Nietzsche, e in particolare lo scritto di Nietzsche l'Anticristo. E Natoli ci fa vedere come Nietzsche sia stato molto acuto a sottolineare alcuni punti di catastrofe, di crisi, di difficoltà del ragionamento cristiano, diciamo così, del ragionamento teologico, del ragionamento dottrinale cristiano relativamente alla questione del dolore. Partirei proprio dalla citazione finale, proprio dal termine, dalle ultime righe del saggio di Natoli, che sono una citazione appunto da Nietzsche. Il regno di Dio non è, dice Nietzsche, qualcosa che si attende. Non ha un ieri, non ha un domani, non giunge tra mille anni. È l'esperienza di un cuore. Esiste ovunque e in nessun luogo. E Natoli aggiunge, è giusto, ma non del tutto vero. Il regno di Dio può venire, o forse solo approssimare, se si opera per esso. Ecco, per certi aspetti in questa conclusione è contenuto il nucleo fondamentale. che cosa sia il regno di Dio e come venga testimoniato dall'icona del dolore, dall'icona dell'uomo dei dolori, cioè dalla rappresentazione del Cristo che patisce. Ecco, la domanda è cosa sia il regno di Dio. E l'ultima affermazione di Natoli, che si può forse approssimare se si opera per esso, contiene, mi pare, il senso della sua interpretazione. Ma adesso prendo capitoletto per capitoletto per dirvi, per citarvi, per leggervi le righe che mi sembrano essenziali per capire il percorso. Diciamo che ci impiegherò una decina di minuti, però chiedo a Luca di bacchettarmi e di fermarmi se vado troppo in là. Ecco, chiaro Luca? Non preoccupare. Mi fai un cenno e io capisco. Smettila. Va bene? Allora, il primo capitoletto è sentito La dolore patito, dolore inflitto. Parte appunto da questa icona devozionale fondamentale che a un certo punto appare nella storia della rappresentazione, la storia della rappresentazione artistica, ma che ci ha accompagnato attraverso anche grandi rappresentazioni che sarebbe bello esaminare nella loro potenza espressiva, quasi per dire così singolarmente, da Antonello da Messina a Kranach a Dürer per arrivare al Novecento, a Ensora, a Rouault, io prediligo per molti aspetti quelle di Rouault nel Novecento, che mi pare abbia dato da questo punto di vista molto da pensare. Allora, la rappresentazione, diciamo così, dell'ecce homo. Natoli citando, Natoli ci fa capire che ecce homo vuol dire guarda, guarda qui, insomma, hai visto, hai visto cosa sta, l'hai voluto, l'hai voluto questo, ecco. E questa espressione ci introduce a una prima considerazione fondamentale che compie Natoli nel primo capitolo, che è uno snodo, il primo snodo. Procederò un po' per questioni, in modo che poi Natoli possa anche approfondirle, naturalmente. La prima questione è, naturalmente, questa icona, l'uomo dei dolori, che ci accompagna, ha una sua, come dire, ambiguità, produce una empatia, produce un'emozione in chi la contempla e da un lato diventa motivo di consolazione, dall'altro produce un sentimento di contrizione. Cioè, l'icona favorisce una nostra immedesimazione, una immedesimazione emotiva, appunto un'empatia, e che da un lato diventa un motivo di consolazione, perché noi vediamo nel Gesù che soffre uno di noi, no? E quindi ciascuno di noi, nel proprio dolore, nella propria sofferenza, cioè in qualcosa che appartiene inevitabilmente alla nostra vita, non ci sentiamo abbandonati perché Gesù ha sofferto. Ma Gesù è anche Dio, non è soltanto uomo. Ecco, il proprio del cristianesimo, dice Natoli poi in un altro capitolo, ma è una cosa che percorre tutto il testo, è proprio l'incarnazione. Ecco, l'incarnazione. È un unicum. Il Dio dei cristiani soffre e muore nel figlio e fa esperienza di ciò che appartiene a tutti noi come esseri umani, il soffrire e il morire. Ecco, questo punto intanto va sottolineato perché è davvero impressionante che il Dio cristiano muoia sulla croce, soffra e patisca. Ecco, è qualche cosa che per dire così ci appartiene, a me sembra l'assolutamente straordinario. A me sembra un tratto così distintivo da, insomma, impressionante. Ecco, al Dio cristiano nel figlio appartiene l'esperimento un crucis, ciò che mette alla prova, ciò che mette alla prova la nostra esistenza nella sua inesauribile, inesausta ricerca di senso. Il dolore e la sofferenza profonda che ciascuno di noi nella sua vita prova è come se ci facesse apparire, pensate alla perda di una persona cara, è come se sprofondasse il senso, è come se ci facesse aprire un orizzonte di assenza di senso. Ecco, ma a questo i cristiani sanno che il figlio di Dio ha partecipato. E questo è straordinario. E questo è straordinario. Allora, a questo punto, poi tornerò su questa questione che è a mio avviso estremamente rilevante, ma a questo punto Natoni fa una considerazione rilevante. Ci sono dolori patiti che vengono dalla natura e dolori inflitti, quelli che noi ci arrechiamo a vicenda. E l'icona dell'uomo dei dolori riguarda il dolore inflitto. Cioè i pattimenti di Gesù sono dolori inflitti. Gesù è messo a morte per mano di altri uomini e in particolare è vittima di un'ingiustizia. Quindi qui si apre un grande capitolo. Siamo all'interno del dolore, ma all'interno di una specie di dolore. Della specie del dolore che è proprio della vittima innocente, che subisce il dolore da parte di altri. Ecco, e questo, su questo Natoli pone l'accento. La sofferenza del Cristo è frutto dell'arbitrio e della crudeltà degli uomini. Non può essere omologata alla comune e naturale sofferenza. Ecco. Allora, è questa specificità del dolore che da un lato certamente appartiene, per dire così, alla dimensione trascendentale del dolore. Ma all'interno di questa dimensione che tutti ci unifica, che tutti proviamo, che dà consolazione ai malati, agli storpi, agli indigenti, agli disagiati e anche a colui che soffre perché altri soffrono. Ecco. Però dentro questo dolore puro c'è un punto, il dolore inflitto, il dolore provocato, la vittima innocente. Ecco. Le sofferenze di Cristo, da questo punto di vista, scrive Natoli, non sono confrontabili con quelle di Giobbe. Ecco. Perché le sofferenze di Giobbe riguardano il tema della giustizia di Dio e l'enigma del male. Le sofferenze di Cristo sono invece le sofferenze di un uomo arrestato e messo a morte ingiustamente. Questa circostanza, dice Natoli, è stata per lo più messa sullo sfondo, ecco, però è una circostanza, questa della questione della responsabilità umana rispetto al dolore che va fatta emergere. Ci sono dolori di cui gli uomini sono responsabili e sono loro responsabili. Questo è il primo grande tema, direi, che Natoli mette subito in campo. Questo rilevamento di una differenza all'interno del tema complessivo, e come dicevo, trascendentale, perché ci unisce tutti, in quanto esseri umani, del dolore. Nel secondo capitolo Natoli accentua una questione che è interna a questo argomento. Questi dolori che patisce Gesù potevano davvero essere evitati. Allora, e qui si apre un'altra questione importante, una questione con la quale Natoli, per certi aspetti, che Natoli apre e che mette sotto una luce critica potente la questione della generazione del senso di colpa. Da un lato l'uomo dei dolori genera questo senso di colpa, diciamo anche qui, che coinvolge l'umanità intera e dall'altro, in questo modo, rende, tra virgolette, economica la sofferenza, perché la si può offrire in espiazione. Che cosa significa? Significa che viene introdotta e viene introdotta dalla riflessione, naturalmente, teologica, la grande questione della solidarietà nella colpa di tutta l'umanità. Cioè, è vero, questo dolore è stato provocato da uomini, ma tutti siamo compartecipi in questa colpa della provocazione del dolore. Ecco, qui si apre il grande tema del peccato di origine, fondamentalmente, attraverso questa mediazione. E il grande tema del peccato di origine implica, dice Natoli, una logica espiatoria. Una logica espiatoria che ha funzionato, che ha permesso ai credenti di finalizzare il patire e di conferirgli un senso, che però per Natoli è, in fondo, un travisamento di senso. Qui poi sarà lui, naturalmente, a dirci o a chiarire. Ma è un punto fondamentale. C'è in gioco il concetto di natura umana e della relazione tra la natura umana e il peccato. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, cioè chi di noi non provoca dolore. Naturalmente ci sono gradi differenti di questa provocazione, ma c'è qualche cosa, una sorta di abisso nel cuore dell'uomo. Questo, d'altro canto, continua Natoli, in questo modo però, noi distogliamo lo sguardo dalla considerazione che il dolore dell'uomo Gesù non era necessario, che quei patimenti potevano essere evitati e che responsabili sono stati coloro che li hanno inflitti. Qui devo dire, si apre un'altra questione filosoficamente e teologicamente di grande rilievo. Davvero questi patimenti non erano necessari o in Cristo tutto doveva essere necessario? E' una questione che Natoli reintroduce ancora a partire da Nietzsche. L'idea del sacrificio espiatorio. L'idea del sacrificio espiatorio, questa logica del sacrificio espiatorio, Natoli la ritiene estranea dal Vangelo. Estranea dal Vangelo. Ritiene che si debba liquidare la logica risarcitoria e che si debba liquidare la logica espiatoria. La logica del sacrificio espiatorio non appartiene al cristianesimo. E non appartiene al cristianesimo perché un Dio che avanza una richiesta di questo tipo, che avanza questa logica, Gesù vittima innocente che viene offerta in soddisfazione delle nostre colpe, avrebbe poco a che fare col Dio predicato da Gesù, ma somiglierebbe piuttosto a una divinità. pagana. Ecco, Gesù non muore, dice Natoli, a causa in espiazione dei nostri peccati, ma a favore di una buona causa, per il regno di Dio. Allora abbiamo così una struttura della circolarità, abbiamo l'introduzione di una solidarietà nella colpa di un tema del peccato di origine che giustifica una logica espiatoria, ma questa logica espiatoria che rende necessario il sacrificio di Cristo per l'emendazione dei peccati dell'umanità è una logica aberrante. Questo è un grande tema, è un grande tema, una grande discussione filosofica, teologica, svolta da Natoli. Ecco, quindi non c'è un peccato che deve essere rimesso e che rende necessario il dolore, il patimento dell'uomo dei dolori per eccellenza. Passiamo al capitolo terzo. Scusatemi se sto andando un po' lungo, ma adesso cercherò di essere più sintetico. Voi capite che sono temi di grande rilievo e che di conseguenza qualcosa bisogna bisogna argomentare. Vai pure Roberto, è perfetto. Grazie, Luca. Allora, il terzo capitolo si intitola Tu sei re? Col punto di domanda. Qual è il capo di accusa che provoca il patimento del Cristo? È la questione della regalità. È la questione della regalità. Ecco. E gli evangelisti, dice Natoli, insistono sull'episodio della regalità che naturalmente è trasformato in questa sorta di sceneggiatura della beffa, no? La corona di spine, ecco, che è quella proprio tipica dell'icona dell'uomo dei dolori. Ecco, Gesù è davvero re. Gesù è davvero re. Natoli dice gli evangelisti insistono sul tema della regalità per mostrare che Gesù è davvero re, è davvero re, ma non di questo mondo, non di questo mondo, cosa che i romani, Pilato, non potevano comprendere, cosa che era temuta invece dai sacerdoti, dai sacerdoti che ne vogliono la morte. Gesù è anche accusato di essersi detto figlio di Dio, sei un messia, è un re, ma di quale regno? Ecco. E qui c'è tutta l'elaborazione da parte delle prime comunità cristiane di un modello di messianicità, di regalità che potesse mostrare come quello che sembrava essere un fallimento, in realtà fosse un nuovo inizio. Il mio regno non è di questo mondo, per citare il Vangelo di Giovanni. e Natoli dice sotto questo segno anche l'ascesa al Calvario e la crucifissione possono essere interpretate come una intronizzazione. Ma la questione è, vi ricordate siamo partiti dalla citazione finale di Nietzsche, ma di che regno si tratta? Di che regno si tratta? Ecco. Natoli ricorda il Vangelo di Lucca «Lo Spirito del Signore mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, per predicare un anno di grazia del Signore». Cioè, accento a Natoli, non c'è riferimento un sopramondo. «Il nuovo regno è un impegno per riscattare dall'ingiustizia, dalle miserie morali, dai deficit materiali questo mondo». Questo è il tema che ricorre da ora in poi. Non quindi il riscatto di questo mondo. Scrive Natoli così «Non si tratta di un altro mondo a compensazione di questo, ma di questo stesso mondo reso diverso, facendovi regnare la giustizia e l'amore». Ecco. Bene. Bene. Ma se ci fermassimo qui, naturalmente, Cristo sarebbe inteso come un grande riformatore sociale. e quindi Natoli pone la questione. Cioè, e qui interroga dal punto di vista che lui dice di essere il suo, di non credente, tra virgolette, bisognerebbe mettere questa espressione, devo dire, interroga i credenti, tra virgolette. Ecco. Allora, dopo avere sottolineato ancora nel quarto capitoletto intitolato proprio Ecce Homo, fino a che punto gli esseri umani possono provocare violenza, possono provocare dolore agli altri esseri umani, dopo avere ulteriormente scavato nella nostra tendenza che sembrerebbe quasi essere nata a nuocere e a nuocerci, a dominare e a possedere, dopo avere ancora messo in luce questa dimensione della violenza intrinseca all'umano come tale, Natoli torna sulla questione. Cosa Gesù pensava di sé? Ecco. Quando ci si chiede ma qual è il regno? Cosa intende per regno? qual è la sua regalità? Allora la domanda diventa cosa Gesù pensava di sé? Gesù pensava di sé di essere figlio di Dio ma questo figlio che cosa voleva dire? Di essere servo di Dio, di essere l'agnello di Dio, di essere intimo col suo Dio. Ecco, Natoli rimane per molti aspetti a me pare ma questo ce lo dirà poi lui perplesso rispetto all'elaborazione teologica successiva. Che ne fa e questa è la stessa perplessità che ha mostrato Natoli dice in modo piuttosto rozzo nella sua scrittura che ha mostrato Nietzsche. Ecco, qui mi permetto di dire che la scrittura di Nietzsche non è mai rozza perché Nietzsche porta alla scrittura quello che vuole portare anche un aspetto di violenza e di rozzezza ma questa è una questione molto limitata. Allora noi riflettiamo sulla quantità di dolore che l'uomo provoca che è presente nell'uomo ma la questione che diventa davvero fondamentale è cos'è il regno in che senso la regalità cosa significa figlio di Dio cosa Gesù pensava di essere cosa possiamo credere che senso ha tutto questo ecco allora Natoli a questo punto pone una domanda e siamo nel capitolo 5 sarete miei testimoni e si intitola così il capitolo questo il farsi uomo di Dio il trasformarsi dell'uomo in Dio l'essere liberati dal dolore e dall'ultimo l'ultimo nemico per dirla con San Paolo dalla morte questo mi pare abbia creduto nei secoli la cristianità lo credono ancora i cristiani cioè il senso del regno di Dio nella sua potenza il senso dell'essere Gesù figlio di Dio nella sua densità metafisica e ontologica questo lo credono ancora i cristiani cioè quello che Natoli ci ha detto prima il senso del regno di Dio come senso di liberazione di questa terra per quanto possibile dal dolore che ci infliggiamo non è il senso teologico del regno di Dio nel quale credono e hanno creduto i cristiani non basta per dirsi cristiani ecco allora Natoli argomenta nel domandarmi questo mi chiedo sono nel pagina 55 appunto nel quinto capitoletto nel domandarmi questo mi chiedo se in coloro che oggi si dichiarano credenti non sia forse non si sia forse insimmato qualcosa di umano troppo umano da risolvere nella pratica tutta terrena della carità cosa vuol dire allora credere in cosa crede chi crede Gesù è Dio ed è un Dio che muore davvero e la domanda che poi la toglie a questo punto è ma può un Dio morire leggo il suo ritorno vorrà dire la sparizione definitiva del dolore della morte questo credo che il credente creda ma se questo crede tutta la predicazione di Gesù il suo dare la vita per la realizzazione del regno non può risolversi soltanto in un esempio di vita nell'indicazione di una condotta ma deve essere una promessa di eternità ma non so fino a che punto oggi i credenti vivano nell'ardente attesa propria della prima cristianità noi diciamo così crediamo di più in un Gesù compassionevole che nel risolvere nel risorto quindi l'asse verticale per cui ci si dice cristiani è la resurrezione è la resurrezione ecco allora ultimo capitoletto andiamo alla fine finalmente vi lascio a Natoli Natoli riprende il tema e esprime quello che mi pare sia il suo parere la vera novità cristiana è l'incarnazione ma come va interpretato questo va interpretata al di là della sua mitografia e Gesù diventa colui che ha saputo essere per gli altri e diventa il segno del divino presente in ogni uomo la redenzione è dare riscatto ai miseri e il regno di Dio è già tra di noi questo è il punto di vista diciamo così posso usare questo simolo del non credente credente poi poi Salvatore mi darà una bastonata sulle mani di un non credente credente ecco è quello cui può arrivare ecco è quello cui può arrivare può arrivare un Gesù che concepisce l'avvento del regno come liberazione dai mali fisici morali e sociali della comunità è questo da cui Natoli viene attratto è questo che lo attrae della predicazione di Gesù lui lo scrive bene così con questa espressione molto forte la terrestrità del messaggio e in questa terrestrità del messaggio non si vede nell'uomo dei dolori la appunto la trascendenza in senso forte ma e quindi la vittima offerta in espiazione di un peccato di origine ma la vittima della sua stessa predicazione della sua azione per la liberazione qui dell'essere umano però d'altro canto Natoli sa che se il cristiano si distingue in quanto cristiano per quello si dice non credente è altro a cui pensa quando pensa il regno di Dio e quando pensa l'essere figlio di Gesù quella di Natoli è una religiosità lui lo dice a un certo punto spinoziana ecco homo homini Deus prendersi reciprocamente in carico condividere e condividere naturalmente non solo la gioia ma anche il dolore e già questa è un compito è il compito che segnalavo proprio all'inizio con cui Natoli chiude difficile per il quale si deve operare grazie scusate se l'ho presa troppo lunga grazie Roberto benissimo prego Salvatore Salvatore non hai acceso l'audio mi pare di no dicevo ringrazio Roberto per questa lettura attenta acuta fine completa anche talmente completa al punto che insomma io stesso ho difficoltà ad aggiungere l'esposizione è stata completa e ha individuato in modo ben preciso le curvature più importanti i nodi più forti della mia riflessione sull'uomo dei dolori questa iconografia nasce fondamentalmente nella tradizione bizantina e in quel caso c'è una trasfigurazione del dolore i segni del dolore incisi precisi però ormai rarefatti infatti una delle modalità con cui questa icona è definita è pietà degli angeli cioè il Cristo a metà del busto che esce dalla tomba e c'è questo dolore adorato quindi questa sofferenza trasfigurata nella gloria e quando questa figura entra nella cultura occidentale e soprattutto nella Germania medievale con il titolo Schmerzensmann l'uomo dei dolori comincia a svilupparsi invece di più la dimensione della sofferenza del sangue della piaga ed è una foto c'è solo il Cristo Cristo adorato dagli angeli ma poi questa centralità sui segni del dolore ed è interessante perché l'iconografia spesse volte cambia nel senso che ci sono i dolori proprio delle crudeltà patite dal Cristo dell'afflizione che ha dovuto sopportare e questa iconografia questa immagine singolare per Cristo molte volte faceva parte della devozione privata una sorta di immaginetta in modo che ci si potesse concentrare su questa sofferenza divenire intimi con essa e come è stato detto questa esperienza questa intimità che l'icona suggeriva appunto un'altra formula per identificare l'icona è imago pietatis questa identificazione emotiva doveva sortire due effetti che sono stati ben disegnati da Roberto un effetto riguardava la possibilità l'offerta al sofferente di una consolazione e vedere il Cristo che soffre e il Cristo Dio perché il credente così lo vive significava due cose lui sa che cosa è la sofferenza la conosce mi può comprendere nel mio dolore perché sa cos'è il dolore e qui è stato segnalato molto bene da Roberto la caratteristica del Dio cristiano che capisce il dolore perché lo vive e paradossalmente non lo avrebbe mai capito se non lo avesse vissuto ma è anche Dio quindi non solo sa cos'è il dolore e quindi comprende il mio ma contemporaneamente è colui che mi riscatta dal dolore nel senso che non mi lascia solo Dio non mi abbandona del dolore gli uomini possono anche avere pietà di me ma c'è sempre uno scarto una distanza una compassione però il dolore di Cristo essendo lui Dio è un dolore che non abbandona quindi non solo comprende la mia sofferenza ma non mi abbandona alla sofferenza e quindi una compagnia stretta e questo è chiaro che per l'umanità nella storia facendo un'analisi degli effetti è stato un vettore davvero di consolazione e quindi nella devozione anche privata al capezzale di un sofferente si diceva ma guarda anche Gesù ha sofferto guardalo anche Gesù ha sofferto e in questa contemplazione il sofferente trovava un suo sollievo quindi voglio usare una parola impropria forse eccessiva ma direi un effetto placebo dell'immagine questo è un aspetto e attiene alla universalità del dolore per cui dinanzi a un'immagine di sofferenza non ci si domanda chi l'ha procurata da dove viene è una sofferenza e come tutte le sofferenze è qualcosa che distrugge che è mortale che impoverisce che fa male quindi indipendentemente dalla causa che ha prodotto quel dolore quella piaga è una piaga è quella universalità che così bene ha descritto ha penetrato Roberto dall'altro lato però questa immagine doveva suscitare contrizione pentimento per i peccati pentimento per i peccati e qui si dà una doppia deviazione la dimensione della consolazione muove verso una sentimentalizzazione di quella morte cioè sfuma in una dimensione patetica patetica nel senso profondo di pathos di partecipazione quindi la dimensione della consolazione prende una curvatura patetica che lascia sullo sfondo che quella morte è inflitta non siamo dinanzi a una morte ma siamo dinanzi a una uccisione Gesù non muore Gesù viene ucciso quella morte non attiene alla comune mortalità morire con le proprie sofferenze morire nel proprio letto la comune mortalità no quella è una morte provocata anticipata poteva non esserci ecco la dimensione sentimentale non è che faccia scomparire l'evento crudele di quella morte ma in certo senso lo stempera nel dolore universale e quindi non fa vedere la dimensione della iniquità ma quando la fa vedere ecco l'altra deviazione è stato detto bene la fa vedere colpevolizzando chi la guarda nella forma questa sofferenza te la meriti te la meriti perché tu in quanto peccatore sei il primo ad avere provocato la morte di Cristo e allora la contrizione per i propri peccati che di per sé è una cosa elevata giusta considerarsi peccatore tutti cadiamo però dalla dimensione corretta della emendazione dei propri peccati alla responsabilità di avere provocato la morte di Cristo e questo evidentemente genera un sentimento di colpevolezza come complesso di colpa e il complesso di colpa è causa di due errori di rendere necessaria la crocifissione perché Gesù muore per redimere gli uomini dai loro peccati e nello stesso tempo una introduzione soggettiva di avere provocato una sorta di uccisione del Cristo per i nostri peccati ecco tutta la formula Eziam pronopis è morto per i nostri peccati è una formula che è diventata equivoca perché la si può interpretare in due modi un modo è è morto a causa dei nostri peccati cioè noi abbiamo causato quella morte e quindi Gesù espia per noi e qui si introduce la dimensione della sostituzione è la vittima innocente che Dio accetta perché Dio rifiuta noi in quanto peccatori ci deve essere una sostituzione un per noi che soddisfa Dio Roberto ha illustrato molto bene anche riprendendo Nietzsche quanto questa dimensione di soddisfazione sia una dimensione pagana di contropartita quindi genera un complesso di colpa nel soggetto e trasforma Cristo in vittima espiatoria quindi una doppia deviazione ma il pronobis lo si può interpretare non in ragione o a causa dei nostri peccati ma in nostro favore cioè dire si è speso per il nostro vantaggio per procurarti per procurarci un beneficio quindi non una sostituzione compensatoria a causa dei nostri peccati ma una dedizione generosa a nostro favore e come ha detto molto bene nel dettaglio Roberto e questo ci porta direttamente a la comprensione di quella morte in un'altra chiave prendo due passi della devozione cristiana uno che attiene alla dimensione del sentimento dell'empatia di quella che in senso lato è non denigratorio chiamo del patetico e appartiene alla storia della devozione cristiana e c'è il famoso testo di Jacopone da Todi quella sagra rappresentazione che è il pianto della Madonna dove Jacopone drammatizza il dolore umano il dolore di una madre dinanzi ai patimenti del figlio donna del paradiso lo tuo figliolo è priso jesucristo beato e si figlio amoroso giglio ma è colui che se sputa e la gente lo muta e l'hanno dato a Pilato ecco questa qui c'è la dimensione emotiva sentimentale figlio giglio il pianto della madre di qualsiasi madre dinanzi a qualsiasi dolore ma lo stesso jacopone e introduce una una dimensione diversa scusate è sparita l'immagine noi ti vediamo io non vedo più non lo so ci sembra tutto normale Walter non di qualcosa distante no per me è tutto normale io vedo benissimo ti vediamo salvatore aspetta vediamo adesso vedo anch'io benissimo è tornata l'immagine perfetto stavo dicendo a fronte di quella dimensione patetica lo stesso jacopone fa parlare la folla e la folla che domanda ma perché è stato catturato che cosa ha fatto non fece mai follia non fece mai follia e allora c'è immediata la risposta scusatemi ho dimenticato di spegnere la cellulare c'è una risposta perché non ha fatto mai follia ma il nuncio risponde eppure la fece e qual è omo che si fa regge secondo nostra legge contraddice al senato e quindi di spine si coroni che regge si è chiamato quindi la devozione ha il lato patetico figlio giglio ma poi la domanda ma che cosa ha fatto perché si è fatto re e quindi centrale per esplicare il pronobis l'agire a favore è la figura della regalità e questo Roberto lo ha mostrato con grande chiarezza il centro il nucleo della storia della passione di quel racconto è il racconto della regalità e nella doppia scenografia degli evangelisti che come è stato detto da Roberto insistono moltissimo sulla figura della regalità e da questo punto di vista se si fa una una storia della tortura la corona di spine è uno specifico cristiano perché la crocifissione i chiodi questo appartiene ai crocifissi anche la flagellazione ma la corona di spine è uno specifico cristiano quindi la la caratteristica della corona di spine nella forma della violenza e della beffa dice la verità e quelli che stanno compiendo quegli atti non capiscono il vero a cui allunono e quindi c'è una doppia dimensione c'è una soldataglia che prende l'accusa e la trasforma in beffa perché com'è possibile che un re sia prigioniero cada nelle nostre mani non si difenda che è poi quello che ha detto Gesù nell'orto degli ulivi no se Dio volesse se il padre volesse manderebbe una legione di angeli e non mi prenderebbero infatti la soldataglia che è abituata a vedere ben altri re si dice questo è re quindi è la dimensione della beffa del ridicolo e della pazzia cioè questo è un folle trattato come folle questo è la soldataglia e come spesso capita anche nella vita sui deboli ci si accadisce da questo punto di vista Cristo è icona di una crudeltà gratuita il barbone che viene percorso dalla soldataglia dai ragazzacci i deboli che quasi a dimostrare forza i deboli morali quasi a dimostrare forza profittano di chi non può reagire e la soldataglia dei vangeli è così descritta dai ragazzacci ad Auschwitz il gusto di infliggere sofferenza lo schiaffo e gli davano schiaffi e questa c'è una dimensione della perversione dell'umano che non direi la dimensione animale sarebbe offendere gli animali l'animale nella violenza è più economico dell'uomo la smette e quindi questa immagine della crudeltà legata all'incomprensione alla superficialità e dall'altro lato l'altra doppia posizione per cui dire re e dire una fanfaluca o quantomeno qualcosa che non si capisce per altri dire re voleva dire qualcosa cioè per il giudeo che si muove nell'orizzonte messianico dire re ha un grande significato ma perché? perché se l'aspettavano non solo se l'aspettavano lo desideravano e quindi il farsi re non era una presunzione da poco anche se c'era una pochezza perché c'è un passaggio di Luca in cui dice che lo consegnarono per invidia invidia del suo seguito perché cominciava ad avere un seguito cominciava ad essere di fatto competitivo e alternativo ai poteri del tempio comunque per loro la questione della regalità era una questione importante incomprensibile per Pilato dove Pilato sapeva bene da romano qual era l'aspettativa dei giudei e dinanzi a un personaggio che produceva un disturbo dell'ordine pubblico si è messo in fondo d'accordo con Erode per liquidare la partita Maggio lo dice in quel giorno Erode e Pilato furono d'accordo Erode per eliminare un ostacolo interno si faceva re e l'altro sostanzialmente per riportare l'ordine pubblico e quindi si accorge che la regalità di Gesù non è una strana pretesa valeva la pena interrogarlo capire tu sei il re questa è la domanda costante che c'è in tutti i Vangeli e soprattutto nel Vangelo di Giovanni la risposta di Gesù è sempre nella forma tu l'hai detto che è ambigua come dire sono fatti i tuoi oppure sei il primo a riconoscerlo tu l'hai detto cosa vuol dire fatti i tuoi non l'ho detto io oppure tu l'hai detto sei il primo a riconoscerlo ma nel Vangelo di Giovanni invece non c'è più tu l'hai detto io sono re ma il mio regno non è di questo mondo notate bene che questa affermazione in Giovanni è coerente è coerente sin dall'inizio del Vangelo di Giovanni una luce che venne nel mondo e il mondo non lo riconobbe ecco quindi portare un regno che è un regno questo è centrale nella tradizione giudaica che è il regno non di qualcuno ma è il regno della giustizia il re biblico è questo non è un uomo che detiene un potere ma è un amministratore delegato dell'azione divina tanto è vero che prima di farsi un re i giudei ce la misero perché il loro il loro re era 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 Dio non potevano avere e poi Dio invece dà loro il re ma come un amministratore di giustizia è a termine quindi già il re giudaico incarna una missione e non un potere il re davidico incarna una missione non un potere e quindi quando Gesù dice io sono re sono re in quel senso lì cioè porto la giustizia voglio il regno dell'avvento della giustizia e allora in questo senso c'è il riscatto ma non nella forma espiatoria muoio a riparazione ma il riscatto nella dimensione alta del perdono rimetto i tuoi peccati la domanda ma chi ti ha dato il potere di rimettere questa è una nozione giuridica amministrativa rimetto i tuoi pacchiati e dico non li faccio valere ti sciolgo che cos'è il perdono se non la remissione dei peccati ti sdebito però l'espressione era anche va e non peccare più non è che ti rimetto i peccati rimettendo la tua colpa ma portandoti alla responsabilità della tua colpa questa è l'economia di salvezza del Vangelo e Gesù già ha detto comprende se stesso comprende la sua opera mano mano che la esercita e facendo una lettura attenta dei Vangeli ci si rende conto che agli inizi Gesù intanto opera ai confini se ne va in Galilea se ne va in una società marginale e comincia ad avere successo a seguito fa miracoli fa miracoli ora è verosimile esistono che Gesù avesse delle capacità taumaturgiche ma se ci pensate bene il contesto antico non era illuminista era miracolista cioè era facile interpretare un evento come miracolo ci si aspettava il miracolo non c'era soprattutto a livello popolare quindi verosimilmente qualche gesto taumaturgico prodotto da Gesù ha creato la fama del miracolo perché dico questo perché la salvezza si presenta come guadagno di un bene materiale non è astratta e la moltiplicazione dei pani non è astratta giustizia è consolazione nel senso di liberare gli uomini dalla loro povertà e non è neanche una critica della ricchezza perché quando dai talenti nella parabola dei talenti bisogna farli fruttare non è una critica della ricchezza casomai lì c'è da domandarsi ma più che un'esegesi biblica e un'analisi psicologica perché chi non fa colui che non fa non fa fruttare il talento è quello che ne ha avuto uno non si poteva permettere di perderlo chi deveva due lo poteva fare ma questo è una libera lettura del potenziale simbolico che hanno i Vangeli quindi non è neanche una critica della ricchezza ma della ricchezza che toglie i poveri e che non vede la povertà quindi è l'avarizia non la ricchezza come abbondanza perché nella moltiplicazione dei pani non solo furono saziati ma ne rimasero delle ceste quindi la ricchezza come produzione di abbondanza è positiva capite bene ne dico queste cose per mostrare la materialità del regno ed ebbe seguito per le ragioni che abbiamo detto ma quando dalla periferia va a Gerusalemme sale a Gerusalemme beh quella direzione alta di consenso comincia a venire meno si trova in competizione con altri poteri e questa forza popolare nascente è inquietante potrebbe essere confusa come un evento insurrezionale potrebbe avere dei segni e se noi vogliamo trovare un indicatore di questo fraintendimento lo troviamo accanto a Gesù ed esattamente nel traditore tradito Giuda si sente deluso perché ha inteso la missione di Cristo come una forma di insubordinazione sociale di potere terrestre di guadagnare un regno Giuda è il traditore tradito è l'uomo deluso e anche gli stessi apostoli alcuni hanno tentazioni strane capiscono e non capiscono c'è un passaggio in cui Gesù allontana Pietro allora nella sua missione nell'esercizio della del suo esser per no non non a causa di ma esser per si trova dinanzi a poteri che lo impediscono che lo impediscono lo fraintendono ecco lo consegnarono per invidia e a un certo momento Gesù comincia a capire a persuadersi che lo uccideranno non l'aveva capito all'inizio il successo lo aveva infiammato il successo in Galilea lo aveva infiammato tutti ne parlavano il Vangelo dove scrivono questo ma quando muove verso Gerusalemme comincia a capire che si era messo a rischio e allora muta la sua mentalità il regno è in mezzo a voi diceva prima io porto il regno ma nel momento in cui sa di morire io muoio per il regno il regno trova resistenza non riesca a realizzare la giustizia e la liberazione qui mi fanno fuori e allora cambia l'angolatura della missione da porto il regno muoio per il regno perché al di là della mia morte deve proseguire la mia missione e deve proseguire negli altri quindi questa morte deve essere spesa perché la realizzazione del regno non finisca quindi non morire come vittima innocente e espriatoria no ma usare la morte che sta avvenendo che comincia a capire come un investimento perché mettetevi poteva anche battere in ritirata dinanzi alla morte accantonare il regno il regno di Dio perché il regno è di Dio non è suo ma lui non accantona la missione spende la morte come investimento nella missione non a caso che diventa importante quel passaggio l'espressione con cui è raccontata la morte l'ultimo atto dei Vangeli le parole sono due traditit spiritum et emisit spiritum dove la nozione del tradere è trasmettere il respiro non perderlo ed emisit spiritum gettare e mettere il respiro e questo lo si vede bene nel Vangelo di Giovanni dove la scenografia della morte è una consegna di un compito perché questo non altro significa figlio ecco tua madre madre ecco tu figlio c'è da portare a termine qualcosa per quanto mi riguarda consumato un mest io fin dove sono potuto arrivare sono arrivato adesso tocca a voi lavorare per il regno di Dio così come ve la racconto così come la leggo io la cosa mi verrebbe da dire che obiezione c'è ad essere cristiani crocianamente potrei dire non possiamo non dirci cristiani consapevole però che bisogna attraversare una morte cioè dire morire per il regno vuol dire accettare un conflitto entrare in un sistema di patimento e non solo le resistenze che vengono dall'esterno ma le resistenze che vengono dal proprio egoismo perché lavorare per il regno è abbandonare la dimensione della filautia dell'amore di sé per cui il cristianesimo sentimentale è facile il cristianesimo praticato è complesso e infatti in un passaggio proprio quando io parlo di Nietzsche quando dico la rozzezza e non mi riferisco al grande stile di Nietzsche ma in questo caso concettuale è che a ben guardare il vero superuomo è Gesù ma non in quanto uomo superiore ma in quanto superamento del proprio egoismo essere cristiani vuol dire andare oltre se stessi superarsi andare oltre la la propria immediatezza naturale cioè le proprie passioni e il superamento di sé diventa immediatamente un'offerta per gli altri capite in che senso allora la figura del cristianesimo ed è uno dei motivi fondamentali per cui il cristianesimo ha poi inciso nella storia ha segnato la storia è proprio perché in questa dimensione di dedizione di salvazione di spendersi per no non sostitutiva ma di generosità di offerta abbiamo avuto tante figure anche secolari di Cristo fra intese se volete no ma il Cristo morale il Cristo come emblema dell'uomo morale dell'uomo etico il Cristo rivoluzionario il Cristo socialista fino ai movimenti del cristianesimo di liberazione no cioè non è un falso c'è nel racconto cristiano questo però c'è anche l'altra dimensione che è ciò che i cristiani e che per il cristianesimo è stato l'asse verticale come diceva Roberto non la dedizione o perlomeno non solo la dedizione ma la la resurrezione non operare per il regno perché venga se mai verrà comunque continuare procedere in questa missione ma essere certi che tornerà che il compimento ci sarà che le lacrime saranno asciugate su ogni volto ecco la storia cristiana ha tenuto insieme questi aspetti quelli che io dico il Christus eternus che sta alla destra del padre e il Christus caritas allora a questo punto io anche per capire quanto la mia posizione sia aderente alla figura del Cristo quanto ne sia distante e qui mi riferisco all'osservazione che faceva Roberto sul mio essere credente o non credente e beh qual è il punto di caduta il punto di caduta è tra una missione da compiere costantemente perché il regno venga magari sempre invocato ma venga e quindi la terrestrità è già qui è già qui nella nostra azione oppure un'idea di risoluzione in cui diciamo si entra nella gloria la reggio beatitudinis di Agostino il paradiso di Dante alla fine c'è la gloria il compimento ci sarà e questo è come dire ciò che è da credere perché non è argomentabile la nostra azione è a trovano i titolari la nostra resurrezione non trovano i titolari domando questa è certamente una differenza tra me e il non credente ma la seconda domanda è ma i credenti ci credono ancora Salvatore siccome abbiamo qualche domanda già prenotata su questo interrogativo posso anche no qui andiamo anche perché Roberto è stato così bravo a penetrare anche il dettaglio che quindi diciamo la sostanza del del testo è già no interrompo in un punto significativo perché a questo punto siamo interrogati da questa questione sia come credenti o non credenti la cosa è abbastanza rilevante di questi tempi ma anche come titolari di una missione in un corso di formazione della politica forse questo qualche rilevanza ce la può avere è una missione ce l'abbiamo anche da non credenti tutto sommato mi pare che nell'assontare questo dilemma in questo modo ci sia anche che è un servizio particolarmente utile scusate in questi termini possiamo definirci operatori del regno questo sì ecco certo comunque adesso chiudo veramente o cercare di esserlo certo certo abbiamo a questo punto già sei domande chiederei poi a Roberto eventualmente di intervenire a margine ma passerei però già direttamente alle domande in modo tale da poterle assolvere insomma tutte la prima era di Massimo Verdino sì grazie buongiorno allora il titolo del suo libro è l'uomo dei dolori giusto e già secondo me è evocativo perché lo è al plurale cioè si parla di dolori e non di dolore le volevo fare questa domanda nella predicazione di oggi soprattutto di questo periodo rispetto a ciò che dice lei e che ha ben illustrato che il professor Dio dato nella predicazione cristiana dei parodi eccetera si parla troppo spesso di un principio di causa-effetto dolore-morte-paradiso cioè si dice il dolore porta necessariamente alla morte ma poi c'è il paradiso la domanda è questa non le sembra che quando si dice questa cosa la si dice più per consolare se stessi che chi la sta dicendo in un certo senso si giustifica per se stesso e non entra diciamo così nei dolori di Cristo perché io vorrei aspettare un po' questa catena di causa-effetto tra dolore-morte e paradiso intanto il paradiso io sono insegnante di religione per cui dico però del paradiso parliamo dopo però mi irrita come dice San Paolo io ho un po' il prurito di sentire anche un po' di cose diverse mi irrita questo fatto che il dolore sia associato necessariamente alla morte sia associato al paradiso dopo non si attraversano i dolori in questo modo perché i dolori come ha ben detto il professor Diodato i dolori dell'umanità sono tanti quindi è un po' una fuga autoconsolatoria dalla realtà volevo sapere il suo parere su questo perché mi sembra che nel suo libro ne tratta grazie altri due altre domande dalle nostre partecipanti Lodovica e poi Maria grazie professor Natoli per questo incontro sono tantissimi gli spunti che lei ha sollevato anzitutto la ringrazio perché ecco credo che poter scendere nella contemplazione dell'uomo dei dolori con questa chiarezza con questa attenzione al dettaglio è già in se stesso risanante oggi forse c'è un po' il rischio di una mistica della croce mentre anzitutto c'è un danno oggettivo che porta nelle vite delle persone che la ricevono e se persino Gesù viene indicato risorto con i segni della passione è qualcosa che non è troppo rapidamente aggirabile credo le mie domande sono due la prima forse un po' nella direzione anche di quello che ha ricordato Massimo come oggi cosa oggi a suo avviso si possa fare per estendere sempre di più lo sguardo dal dolore identificato anche iconicamente solo col momento della croce o dei patimenti che l'hanno immediatamente preceduta ai dolori io nel Vangelo leggo cose che scandalizzano che forse tanti credenti hanno anche poco presenti Gesù è stato accusato di essere indemoniato è stato deriso non è stato creduto da alcuni familiari cioè c'è tutta una dimensione del patire che è molto antecedente agli eventi diciamo tra l'orto degli olivi e poi la morte sul Golgota e la seconda domanda forse anche se me lo permette un po' a provocazione lei credo parli nel libro anche il professor Diodato l'ha esplicitato all'inizio di questa dimensione per così dire empatica di chi vedendo Cristo patire tanto si sente raggiunto riconosciuto e compreso nel dolore proprio se vogliamo è anche una dimensione proiettiva di tipo psicologico questa però nel profeta Isaia nei canti del servo sofferente io vedo che questo servo sofferente sarà come uno davanti al quale ci si copre la faccia e quindi quel guardare l'icona nel momento in cui la scena è edulcorata diventa invece in altri forse in alcuni credenti anche in alcuni uomini di laicità che però non cercano la visione edulcorata non una consolazione ma un'empatia per cui soffro con chi soffre per chi lo amo e eventualmente addirittura distolgo lo sguardo da qualcosa che è troppo forte quindi grazie ecco di una sua parola sapiente su questi due aspetti un saluto al professor Diodato che sono stata molto contenta di riascoltare oggi avendo io qualche anno di esperienza in più e quindi riuscendo a seguirlo in più dettagli rispetto ai miei ignoranti 20 anni quando venivo a lezione in cattolica da lui grazie prego marito sì allora faccio la premessa io sono una di quelle che come dire come come insegnava il cardinal martini è arrivata alla definizione del credo di credere non ne ho mai la certezza completa perché perché forse non spetta a me e perché forse in questo non so vedo anche quel percorso umano di Gesù che progressivamente prende un'autocoscienza e arriva anche al momento della disperazione cioè è della mancanza della speranza perché se e arrivo un po' al nucleo di quello che volevo dire nella concezione del regno che poi è una concezione molto ebraica Gesù non esce mai dal suo ebraismo e dalla sua concezione del regno come era fatto tant'è che quando come dire giustamente è stato ricordato il passaggio del fatto che Israele non aveva re ma perché Dio diceva ma che re volete volete farvi come gli altri volete farvi come gli altri mentre io vi ho scelto per un percorso diverso e quindi la dimensione del re è quella dell'amministratore delegato in un certo senso perché appunto il regno è Dio non è altro questo percorso appunto dell'autocoscienza della speranza mi sembra che forse sia nella domanda anche che tu Salvatore fai qual è la coscienza del cristiano o dei cristiani rispetto a questa dimensione ecco ci siamo molto se l'empatia può essere il braccio orizzontale della carità abbracciante anche quando a volte quando c'è dolore non puoi abbracciare perché chi soffre a volte soffre talmente tanto che non lo puoi nemmeno toccare perché lo fai soffrire ancora di più e quindi devi devi fare questa cosa in un modo diverso e se la fede è il momento del centrarsi su di sé mi chiedo la speranza che è la parte come dire è la sorella più piccola dei traedoni no? che rimangono quella piccolina quella che però quando manca il peccato contro lo spirito perché la speranza del regno che viene la speranza del regno che viene ma che viene nel cui crediamo la risurrezione dei corpi non è che noi crediamo in un paradiso disincarnato disincarnante ma in una risurrezione del corpo di fronte a un Dio che sparisce perché nel dramatis persone della passione Dio sparisce e quindi la speranza mi sembra che diventi la speranza del bambino la carità è dell'uomo adulto e anche la fede in un certo senso ma la speranza è quella del bambino e forse è questo quello che i cristiani a volte dimenticano di fare non lo so è più una riflessione che una domanda Salvatore è l'interpellare delle delle cose semplicemente questo andiamo con le prime risposte bene la prima risposta ci porterebbe anche ad una considerazione più generale della dell'esperienza del soffrire che ha i tratti dal punto di vista del soggetto sofferente dell'insensatezza cioè quando noi soffriamo ci domandiamo perché ci capita cioè se osserviamo la sofferenza diciamo è una cosa del mondo se patiamo la sofferenza la sentiamo come strana come se non ci toccasse ecco questa è la doppia dimensione di esperienza del dolore e allora dinanzi a questo l'umanità ha sempre cercato di trovare senso in questo non senso cercare di trovare una logica in questo non senso e se noi analizziamo studiamo la sistematica dei miti delle forme di credenza più o meno tutti hanno cercato di rendere economico il dolore e quello di peccato morte risurrezione è stata una modalità di mettere in coerenza questo problema il discorso si farebbe molto diverso da quello che stiamo facendo adesso ma tutti i miti sono forme sintattiche per dare coerenza all'esistenza paradossalmente ogni mitografia è la prima forma di razionalità contrariamente a quello che si crede è la prima forma di razionalità cioè è una sintassi a fronte dell'assoluto della realtà e quindi noi possiamo leggere in questa chiave e quindi nella lettura del racconto biblico perché quando Paolo dice quello sullo sfondo c'è la genesi si iscrive in quel mito e questo fondamentalmente rende in qualche modo sensato il dolore non solo sensato ma riscattabile allora dove si si introduce anche la dimensione patologica riscattabile in quanto auto imputabile ma nello stesso tempo riscattabile perché c'è uno degno che se lo prende in carico perché io in quanto peccatore non ho la forza e il merito per poterlo fare non posso meritare la salvezza questo poi è stato radicalizzato nel protestantesimo la massa da nazioni qualunque cosa io faccia non posso elevarla a merito perché è la grazia di Dio che mi salva io posso corrispondervi quindi direi che questa sintassi preferisco sintassi mi è divenuta fortemente antipatica alla formula l'espressione narrazione vi inviterei a non dirla più soprattutto a chi insegna le narrazioni mi sembra vendola no proprio questa sintassi è un elemento di coerenza ma se poi noi facciamo una lettura ci rendiamo conto quanto questa questa struttura abbia falle non sia convincente e quindi a questo punto di vista bisogna rileggere reinterpretare questa simbolica in una dimensione che ci dica qualcosa di più di noi perché di fatto ce lo dice quindi a questo punto di vista è chiaro che quella sintassi per me non è convincente nella forma in cui la tradizione la racconta però per uno che ci lavora su questi simboli bisogna vedere come 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 li valorizza come li impiega dove però se si entra alla dimensione della fede già il discorso cambia la domanda è cosa crede chi crede perché la vita è un sistema di credenze noi viviamo di credenze noi non viviamo di dimostrazioni la nostra vita corrente è una vita fatta di credenze le dimostrazioni sono molto poche però non sono insensate ci permettono di trovare posizione nel mondo e quindi quella sintassi appartiene a una di queste modalità per quanto riguarda la seconda domanda i dolori sono tanti però nella morte del Cristo anzi nella uccisione del Cristo tendono a convergere e a trovare una dimensione intensiva diciamo che la crocifissione è la dimensione intensiva della calunnia della mormorazione e quindi da questo punto di vista esistono vari modi di far soffrire e l'unica cosa che possiamo dire è che il far soffrire conduce alla morte di fatto è un cammino verso l'amore è l'uccisione lenta la croce questo nel libro lo dico la croce si deve leggere invece in un altro modo non tanto i dolori diffusi ma la croce nel senso di celebrazione della missione infatti nel libro dico il momento più umano più intensamente umano del racconto della passione è Lecce On infatti apro il libro con una riflessione sull'ecco Lecce nella Bibbia che poi corrisponde al look degli inglesi guarda guarda cosa hai fatto guarda come l'hai ridotto qui finisce la dimensione umana del racconto poi la crocifissione è una intronizzazione in fondo è la il vexilla regis è l'emblema del re la crocifissione dà il senso della regalità e poi in effetti poi c'è la seconda parte c'è questa dimensione proiettiva nella nella figura dei dolori di Cristo ma qui c'è un'altra osservazione che tu hai già fatto anche nella dimensione diffusiva del dolore cioè non esiste il dolore della passione che abbiamo già spiegato cosa vuol dire il dolore patito da Gesù ma la cosa importante è la responsabilità che Gesù si prende del dolore degli altri che fa parte della missione Gesù sana sana gli storpi cioè dire Gesù nella passione e nella crocifissione volge volge a vantaggio la sconfitta dice guardate che non è una sconfitta continuate ma continuate che cosa quello che io ho iniziato io che cosa ho fatto mi sono preso carico del dolore degli altri in questo senso si è confrontato con i dolori degli uomini ma nella forma attiva del sollevarli e quindi paradossalmente li consola non solo e non tanto per il dolore patito ma perché indica il modo di atteggiarsi nei confronti dei dolori della vita con quello che dice Marika io mi trovo in sintonia più che una domanda se non quel punto che è quello della speranza la speranza ha una dinamica in altre sedi l'ho detto naturale biologica che è nella radice greca della parola elpis dove il gruppo è lo stesso di voluptas cioè la vita vuole se stessa finché può vuole se stessa quindi c'è una dinamica come si dice biologica della speranza ma la speranza nell'adempimento di una promessa è già una certezza cioè quello che comunemente si chiama l'atteggiamento che i credenti hanno nel tempo intermedio nel frattanto verrà ma intanto io opero in quella speranza quindi vivere nella speranza non è vivere del proprio desiderio di vita vivere nella speranza io in altri luoghi l'ho scritto come l'ardente attesa che ciò che deve avvenire verrà poi ci può essere un'altra dimensione secolare della speranza l'impegno nella vita per riscattare la vita cioè per affrontare il dolore è una modalità di sperare e per andare in un territorio che io ho affrontato ma similare a questo ma ne abbiamo parlato anche Aldossetti la dimensione concreta il laboratorio concreto della speranza è la perseveranza la perseveranza è la trasformazione di un sentimento in azione e in questi tempi se di una cosa abbiamo bisogno fondamentalmente è la perseveranza cioè la speranza come sentimento è meramente consolatoria e non ci porta da nessuna parte per farla diventare concreta deve diventare azione quindi deve diventare perseveranza perché la speranza non sia vana bisogna portare la mascherina e questa è perseveranza perché se io aspetto che sparisca il virus ma comincio a fare ammassamenti e questa è la differenza tra lo sperare e il perseverare quella di cui parli tu invece è il salto e questo fa differenza allora quando tu mi dici come Martini io credo di credere io questo non lo dico perché non mi sento di dirlo perché non c'è nessun paradosso a cui io aderisca cioè io non ho l'astultizia della croce quindi qui si tratta di entrare nell'esperienza del vissuto io non 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 ho la dimensione che è gardiana del salto non ho quella pascaliana della scommessa ho quella cristiana della missione questo sì grazie salvatore andrei con le altre tre domande Pia poi Stefano sono già le 12.10 e chiudiamo poi e appunto Pia Stefano e Lorenzo sì io volevo solo osservare questo nella presentazione del professor Diodato si è parlato di superamento della logica espiatoria ed è un aspetto che condivido assolutamente volevo osservare che anche all'interno del mondo cattolico sta avvenendo questo passaggio e in particolare a me sono servite molto le letture del teologo Carlo Molari in questa direzione ok grazie Pia prego Stefano 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 non hai l'audio acceso mi sentite? adesso io ti sento allora vengo alla domanda subito dopo avervi ringraziati perché veramente ci avete fatto pensare lezioni interessanti ha detto Salvatore Gesù muore a causa dei nostri peccati cioè l'ha definita una sostituzione compensatoria oppure Gesù muore a nostro favore l'ha definita una dedizione generosa quello che resta sono i nostri peccati e Salvatore dice Gesù rimette i nostri peccati non annullando la tua colpa ma portandoti alla responsabilità della tua colpa ecco Salvatore ha spesso spiegato con l'autorevolezza che lo contraddistingo e come nel pensiero del cristiano di oggi a volte si dimentichi un pochino l'aspetto mistico e ci si concentri più sull'aspetto delle opere no? io mi domando in questa evoluzione del pensiero del cristiano di oggi la morte di Gesù quanto è responsabilità degli uomini e quanto invece è responsabilità del male del diavolo chiamiamolo come vogliamo lui ha parlato dei deboli morali che ha definito ha parlato di quella crudeltà che non è necessaria che appunto ci differenzia dagli animali nel senso che gli animali non arrivano a questa forma di crudeltà inutile e giustamente la crudeltà che subisce Gesù vanno oltre quelle che erano fra virgolette necessarie per la sua condanna a morte secondo te nel pensiero del cristiano di oggi come viene percepita questa crudeltà dei deboli morali a cosa è dovuta la mia sensazione è che oltre che una relativizzazione diciamo del pensiero religioso ci sia stata anche una relativizzazione del male cioè che il diavolo di oggi sia un po' simile all'Iblis allo Shaitan dell'Islam una figura irrilevante rispetto all'onipotenza di Allah una sorta di punitore di secondino di boia che non è responsabile del male ma si limita a punire chi il male fa ecco volevo sentire la tua opinione in proposito grazie prego Lorenzo a me sembra che l'interrogativo radicale che esce dalle parole di Natoli sia essenzialmente questo in che cosa credono coloro che dicono di credere cioè qual è l'esatto contenuto attuale della fede dei cristiani e questo contenuto quanto determina la loro esistenza perché poi alla fine il fatto di credere o di non credere dovrebbe incidere sul comportamento materiale delle persone e in che cosa quindi la fede così come viene annunciata attualmente e tenendo conto della molteplicità perché poi alla fine ci sono noi assistiamo allo spettacolo incredibile di blogger di teologi improvvisati che vorrebbero insegnare al Papa soprattutto a questo Papa che cos'è la fede la domanda allora radicale è si può dire che esiste un contenuto unificante della fede cristiana uno potrebbe dire sia la persona di Cristo ma anche questo è insufficiente nel momento in cui come ricordava tu stesso Salvatore le letture del Cristo sono così tante il Cristo liberatore il Cristo della tradizione il Cristo storico il Cristo cioè tutto quel tipo di interpretazioni che sono state fatte che in fondo allontanano dalla da quella che dovrebbe essere la specificità del cristianesimo e della figura del Cristo stesso allora il problema non è nemmeno più tanto di sapere se c'è la fede oppure no ma su quale sia questa fede se sia ancora possibile un principio unificante per dire per poter affermare io credo il Cristo oppure se tutto non si è lasciato semplicemente all'arbitro personale con il che però questo ha una conseguenza terrificante sia dal punto di vista della legittimità stessa dell'esistenza delle chiese perché in fondo le chiese non dovrebbero essere il raduno di gente che genericamente pensa più o meno le stesse cose ma per il resto si comporta come si vuole e poi sulle conseguenze pratiche di questa fede perché se è vero che Gesù è venuto a portare il fuoco molto spesso mi sembra che i suoi seguaci non portino assolutamente niente grazie grazie Lorenzo prego Salvatore abbiamo le risposte dunque circa la la prima domanda sì è vero che nelle più recenti teologie sia progressivamente come dire venuta meno sempre meno rilevante la dimensione del sacrificio espiatorio che tra l'altro come ho detto io nella lettura stessa dei Vangeli non viene fuori cioè questa nozione a causa di sostitutiva dalla lettura dei Vangeli non viene fuori viene fuori una morte patita per invidia perché la la nozione di sacrificio espiatorio e di complesso di colpa di imputabilità ha prodotto due terribili errori uno generale del complesso di colpa nel soggetto di sentirsi malato sin dalla nascita ora questo può avere anche delle ragioni nel senso che noi e qui poi faccio riferimento anche alla domanda di Stefano c'è in noi una disponibilità al male c'è c'è una una tendenza all'adevianza poi è chiaro che l'uomo deve costantemente come dire rendersi conto di questo ma questa è un'altra cosa diciamo che una disponibilità al male non è un male imputabile e poi l'altro elemento come dire degenerativo è stato non di imputare quel delitto a coloro che lo commisero ma a un popolo questa è stata una conseguenza devastante con un'ulteriore dimenticanza che chi ha patito quel delitto era un ebreo e quindi lo sradicamento di Gesù dal suo popolo di guai ne sono venuti fuori tanti quindi le teologie in certo senso si sono resi conto leggendo la Bibbia spogliandola ecco qui ha ragione Nice della sua incrostazione di paganità c'è stata un'elaborazione pagana del sacrificio di Cristo e poi per quanto riguarda il ragionamento di di Stefano c'è una dimensione di di male circolante questo sì e questo coincide anche con quanto si diceva prima la tendenza dell'uomo al male alla deviazione alla non dominio del desiderio il desiderio ha una doppia faccia per un verso è l'elemento dinamico dell'esistenza perché se non desiderassimo saremmo già morti prima di vivere però il desiderio ha anche una dinamica infinitaria e in questo senso bisogna guidarlo bisogna avere una capacità di una vigilanza per usare una nozione biblica e anche cristiana una vigilanza ecco direi che la dimensione del diabolico sotto questa accezione in questa modalità spesso è dimenticata spesso è dimenticata e quindi una cecità nei confronti del male una irresponsabilità e nel Vangelo questo c'è non sanno quello che fanno non sanno quello che fanno e bisogna portarli a questa consapevolezza il demoniaco come zizzania quindi come dimensione circolante ecco qui bisogna educare l'occhio questo e probabilmente non non lo si fa come si deve in termini di vigilanza e c'è una sorta di esternalizzazione del male è sempre di altri è sempre lontano e questo è un elemento che poi lo fa fiorire senza che uno se ne accorga la domanda di Lorenzo era una domanda che si è posta già la prima cristianità chi dite voi che io sia ed è rimasta una questione aperta però ce n'è un'altra di risposta io sono la via la verità la vita cioè fate quello che faccio io quindi dalla figura di Cristo emerge certamente un ortoprassi questa è sicura ma c'è anche la dimensione che verrà un tempo in cui cesserà l'azione non dovremo più operare per perché tutto sarà compiuto resterà solo la carità ma la carità non come compassione non come aiuto ma la gioia del puro amore quindi non la dimensione donativa ma fruitiva della carità perché nella beatitudine si gioirà della medesima gloria il paradiso di Dante è una teologia cristiana il cristianesimo ci ha creduto a questa cosa ed è l'esaltazione del puro amore dove non c'è la possibilità di un godimento maggiore delle proprie possibilità di godere per cui il godimento sarà diverso ma ogni vaso sarà riempito perché come dice Piccardo Donati in sua volontà è nostra pace questo la storia della cristianità lo ha creduto domanda è credibile seconda ci sono ancora coloro che ci credono perché se il cristianesimo si riduce a ortoprassi e io mi pongo la domanda come ricordava Roberto cosa c'è da credere se non c'è nulla da credere e direi che la chiesa nel fatto diciamo nella pratica non è che abbia perso questo referente all'ultimo non lo ha perso anche nella predicazione non lo ha perso quando si parla di Dio si parla di questa cosa qui però e per fortuna direi la dimensione dell'ortoprassi è cresciuta sempre di più è diventata sempre più robusta più consistente non è che prima non ci fosse perché la storia cristiana è tutta una storia di carità ma oggi si punta più che mai su questo lato e non su questa dimensione che io uso dire dell'escaton compiuto dell'escaton realizzato poi la domanda che ponevi tu è molto importante e molto importante e problematica e ne crea altre di domande la metto così non aspettare più la fine dei tempi ma agire nella chiave nella chiave della missione di Cristo produce un cambiamento nel fatto conta in breve in breve praticare la carità credendo alla vita eterna o non credendo alla vita eterna cambia incide beh se non incidesse diciamo che si è dissolto l'involucro mitico del cristianesimo se posso dire qualcosa io Salvatore a questo proposito è che il mondo poi cambia sempre quindi anche le nostre convinzioni nella anche nella mera pratica possono barcollare possono vacillare a un certo punto del resto quando gli antichi anche pre-cristiani soprattutto pre-cristiani vedevano nelle catastrofi naturali una punizione del Dio o degli dei immaginavano di aver compiuto qualche cosa quindi questo metteva in crisi le loro certezze per le quali adesso si stavano meritando quel castigo direi nella vita quotidiana è difficile trovare un momento nella vita neanche nella storia dei popoli un momento in cui si diventa immuni dalla appunto dalla sofferenza quella che capita che capita per accidente che mette in crisi la tua la tua fede anche civile e ti porta a dire basta adesso mi volgo al male o mi volgo a me stesso o mi volgo a qualcos'altro non lo so sicuramente in un momento primario forse non cambia però ecco non cambia in un contesto positivo per i temi economici quando poi ci sono le grandi crisi dell'umanità beh ma qui io tornerei alla distinzione iniziale che è un po' la chiave che introduce il libro la differenza tra il dolore patito e il dolore inflitto dinanzi a una catastrofe e nella storia ce ne sono state tante c'è un modello esplicativo espiatorio sto soffrendo così perché è un male che mi sono meritato lo si diceva anche dell'AIDS allora in questo caso come dire c'è una logica prevalente di complesso di colpa però la domanda può essere un'altra di fronte a un male che mi colpisce c'è un interrogativo legittimo non frutto di una maledizione una punizione che viene data ma l'interrogativo legittimo è cosa ci ho messo io per procurarmelo che è il dilemma di oggi cioè questa pandemia quanto è puro evento naturale quanto è frutto di un'alterazione della natura prodotta da noi questa è la domanda che va al di là della dimensione magica della maledizione però la dimensione magica della maledizione è una modalità per esorcizzare il male per allontanarlo da noi cioè noi non centriamo o centriamo in modo generico tutti colpevoli non si è colpevole allo stesso modo chiaro Vincenzo forse vorrei dire qualcosa a questo proposito non ho curioso brevemente una domanda che poi è legata anche al mio lavoro cioè cristianesimo e a proposito di riflessione e comunicazione prima parlavi di sintassi è un problema appunto di sintassi è un problema di messaggio comunicarlo oppure è un problema di mancanza di professionisti cristiani sto pensando per esempio ad Hollywood il mondo di Hollywood senza del cristianesimo è davvero minoritaria quindi ecco è un problema di messaggio o è un problema che non ci sono dei tecnici cioè dei cristiani che capiscono l'importanza di doverlo comunicare e quindi si impegnano in professionalità nel mondo della comunicazione più magari del mondo ebraico per esempio diciamo Salvatore aspetta sì vai Andrea c'era l'ultima l'ultima va bene va bene aggiungiamola così rispondo a tutte e due sì vai poi chiudiamo grazie a tutti Salvatore metto subito le mani avanti e scusatio non petita accusatio manifesta se farò precipitare un po' il livello del nostro dibattito però io la domanda che ti volevo fare riesco a farla solo diciamo con le parole con le parole che ho era sul concetto appunto che stavi sottolineando anche proprio adesso di recente tra il male patito e il male inflitto soprattutto appunto con riferimento alla direzione alla dimensione del male inflitto e proprio in questo periodo in cui con le rievocazioni dantesche abbiamo ripreso in mano magari ancora i temi che sono dentro nella sua opera forse più famosa nella divina commedia allora la domanda che io ti vorrei fare ma questo processo che forse c'era anche nell'opera dantesca di scavare dentro di noi e di andare e di passare per gli inferi per poi arrivare appunto al paradiso è una dimensione che è possibile soltanto una volta nella vita oppure visto che appunto l'uomo ha una dimensione permettimi questa parafrasi del testo di Marcuse cioè l'uomo ha una dimensione ma in questo caso non di consumatore ma di peccatore non può che essere un processo ciclico no? Cioè questo livello di autocoscienza che si può raggiungere andando come dire continuamente verso l'inferno per poi risalire al paradiso è una cosa che avviene sempre alzando di volta in volta l'asticella della virtù e questo non accade solo per il fatto che l'inclinazione ad essere percatori è una cosa da brutti per dirla con il linguaggio dantesco ma è una cosa che riguarda tutte le persone credenti o non credenti un'ultimissima cosa che ti voglio dire ma il fatto di per così dire considerare un'etica del finito come diresti probabilmente tu e considerare il regno realizzato nella nostra terra nella dimensione dell'altruità e della diciamo solidarietà non toglie un po' di quella speranza che ha il credente nella vita ultraterrena in un ricongiungimento che non è solo qui ed ora ma è in eterno e io direi anche permettimi questa questa battuta sulla l'occupazione spaziale delle anime ci sono più anime per così dire nell'aldilà che nell'aldiquà cioè ci sono più non viventi che viventi a me per esempio mi piacerebbe ricongiungermi nell'aldilà io ho questa diciamo io credo di sperare no dico così credo di sperare di ricongiungermi con i miei magari conoscenti con i miei congiunti e magari con qualche personalità che mi ha che mi ha colpito nel mondo reale nell'aldilà e io non vorrei che questa speranza mi fosse tolta nella realizzazione del regno qui ed ora ti ringrazio Salvatore bene allora rispetto quello che diceva Vincenzo la viscomunicativa dipende nel suo motore primario dalla convinzione che tu hai circa quello che vuoi comunicare e quindi evidentemente le tecniche che ha pronti per farlo se tu fai una campagna pubblicitaria non bastano le tecniche anzi non le troveresti neanche se tu non fossi convinto di farla quindi alla base di qualsiasi scoperta c'è sempre una volontà un'intenzione o per usare un tuo termine un investimento in una campagna poi è chiaro che devi avere le abilità ma le abilità tu le trovi e le cerchi se ci credi in quella campagna quindi tu il cristianesimo lo testimoni se ci credi la prima forma di testimonianza è viverlo viverlo nella condotta individuale viverlo come vita comunitaria viverlo come annuncio del messaggio allora devo dire che da questo punto di vista il cristianesimo di queste ultime stagioni non ha avuto un deficit comunicativo per fortuna cioè noi gli ultimi pontificati dal punto di vista della comunicazione sono stato sono stati fortemente efficaci hanno occupato la scena mondiale si sono imposti a partire dal concilio questo papa ha una grande che non gli viene da abilità che secondo me pure ha ma che gli viene dalla convinzione profonda che ha giovanni paolo ha puntato tutto il suo pontificato sulla comunicazione personalmente ho dei dubbi sui contenuti però dal punto di vista dell'efficacia comunicativa non è mancata ecco direi che anche nella pratica diffusa diciamo tutto l'associazionismo larga parte del volontariato e sono dei testimoni al cristiani ecco il punto è e qui mi aggancio all'ultima parte dell'intervento di Andrea che è ciò che a me fa davvero problema ma perché è la sua posizione certamente alla fine il cristianesimo della tradizione ma è quello in cui credi lui che nella sua dichiarazione di fede perché la redenzione non guarda all'avvenire il senso profondo della redenzione la fede è il riscatto di tutto il passato è il riscatto di tutto il male vissuto il futuro non è l'avvenire del progetto umano il futuro è la cessazione del dolore e quindi il riscatto di tutto il dolore che c'è stato questa è la soluzione ma questo non è argomentabile razionalmente è solo un salto allora fare o non fare questo salto quanto è incidente nella vita oppure sia che non si faccia sia che non si faccia la dimensione dell'ortoprassi può continuare questo per me resta una domanda ma a suo modo Andrea ci ha dato una risposta alla fine la speranza è che tutto sarà redento il ci rivedremo in un modo o l'altro ci rivedremo nulla di ciò che è passato è perduto questo è un atto di fede è il cuore paradossale del cristianesimo e che non dipende dalla nostra potenza e qui viene fuori tutto il ricorso sulla potenza e impotenza di Dio su cui ha dibattuto tutta la teologia il Dio che si dona è un Dio potente sì potente perché nessuno può donare ciò che non ha se io metto a servizio me metto a disposizione una forza quindi questa dimensione dell'impotenza di Dio è una lettura sbagliata della potenza perché se tu pensi alla potenza come dominazione è chiaro che Dio è impotente ma la potenza è dominazione o capacità di azione la potenza è capacità di azione la dominazione è una ipertrofia possessiva della potenza quindi questo Dio è potente nel senso che ha messo la potenza a disposizione cioè ha donato ha creato e nell'accezione della promessa mi verrebbe da dire ciò che io prometto io farò e quindi tu mi hai anticipato nella battuta finale questa potenza si manifesta nella resurrezione che non è una potenza disponibile all'uomo può donare la sua potenza ma è Dio che ha risuscitato Cristo dai morti il Cristo uomo è stato risuscitato da Dio dai morti e questo non è argomentabile si tratta di vedere quanto è incidente nella vita se questa fede è ammesso che ci sia fa o non fa differenza questo non lo so dovrebbe essere colui che crede che me lo faccia capire e nella mia vita una sola persona ha dibattuto con me solo su questo in modo ossessivo solo su questo cercando di farvelo capire ed è stato Sergio Quinzio grazie in qualche modo con le due parole sono decidate da queste due finali dagli interventi più umani quasi che non dottorali o didattici dei nostri amici insomma una certa forma di potenza l'hai espressa anche tu hai quasi proiettato in quell'altro mondo perché nello spiegare ecco magari su di te non sono riusciti a portarti diciamo da quell'altra parte ma noi però siamo riusciti a portarci da quell'altra parte in qualche modo e a a pensare qui che cosa ci possiamo aspettare di là quindi forse la risposta alla tua domanda è dalla tu stesso in qualche modo forse dipende da 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 qualcosa che attiene a quello che facciamo e a quanto ci crediamo si può aiutare il non credente da credenti ma forse anche il contrario non mi viene un modo migliore per per dire quello che hai scatenato insomma anche a quello personale dentro dentro di noi con determinate argomentazioni forse questa attenzione è proprio quello che può aiutarci vicendevolmente in una direzione magari comune a tutti non so se qualcun altro vuol dire qualcosa io beh ormai quasi nulla no a livello di chiaramente di commenti saluti ringraziamenti sì e cose del genere perché veramente questo per me era un modo di ringraziare grazie sì volevo dire e volevo ringraziare veramente salvatore perché ci fa crescere quindi volevo ringraziarti sei una grandissima persona grazie grazie a voi io vorrei rivedere un momento anche Roberto Roberto che ci ha mi ha mi ha mi ha mi ha mi ha mi ha interpretato come se fosse me stesso grazie no io posso posso dire una cosa sola ma per chiudere grazie grazie a tutti volevo volevo solo una battuta Salvatore tu hai ricordato io sono la via la verità la vita no perché qualcuno ci crede ma ci crede nel senso che è stato espresso poi bene alla fine alla fine da te no commentando quello che diceva che ha detto molto bene secondo me Andrea perché qualcuno ci crede ma perché nell'immanenza di quella vita nella carne del mondo di quella vita ha visto lì la trascendenza ha visto lì proprio il divino in quella vita e questo è straordinario cioè quando in quella sofferenza faccio solo un esempio poi mi taccio perché è già stato detto tutto troppo bene e io ho ascoltato con grande gratitudine perché quando all'interno di quella sofferenza l'uomo dei dolori dice io perdono ecco qui qui io tocco il divino perché sento subito che va oltre me stesso e mi apre una dimensione infinita di possibilità quella possibilità che poi attraverso quell'insieme che è fede speranza carità veramente diciamo non districabile per cui la fede non è affatto credo che una proposizione che posso in qualche modo dimostrare c'entra niente che ha a che fare con una grazia perché io lì non ci posso arrivare non ci posso arrivare e lì allora mi fa sperare che come diceva Andrea io possa rivedere mio padre che davvero ci sia altro rispetto a tutto ciò e questo incide sulla vita suppongo di sì non lo so magari non nella mia piccola vita ma nella vita del cristianesimo ha inciso moltissimo a mio avviso e questo è tutto fuori dall'orizzonte che a me voglio dire ho coltivato dal punto di vista speculativo dell'uomo homini Deus pinoziano perché quello è all'interno del conatus in suesse perseverandi è all'interno di quella dimensione della speranza che tu evocavi greca della speranza per cui è all'interno di quell'utilità che mi fa dire io non odio l'altro con odio ma rispondo con l'amore perché questo incrementa la mia potenza di vita non è questo il cristianesimo il cristianesimo è altro è altro non sta all'interno di questo circolo che è comunque il circolo della nostra utilità di vita io non diciamo così che io ve cioè si vede quando io sono la via la verità la vita tu pensa chi può pronunciare questo si può credere in questo perché lì si vede l'altro l'alterità profonda potente l'infinito ecco chiudo 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 solo così e grazie per ringraziare per ringraziare